Sì, io faccio un breve intervento perché non conosco in maniera approfondita la situazione, non conosco appunto la situazione dell'astigiano, neanche a livello della consiglia dell'artesi appunto che ha fatto delle interpellanze anche relativamente a NOS che ho avuto modo di vedere. Io volevo ritornare un pochettino sulla riflessione invece brevemente fatta da Stefano Risso inizialmente, cioè sul ruolo delle assemblee elettive perché a me sembra importante che quando si parla di società comunque parzialmente pubbliche come sono Irene o totalmente pubbliche come può essere SMAT appunto ci si chieda quale ruolo possono avere le assemblee elettive, i consigli comunali all'interno delle scelte di queste società. Per quella che è la mia breve esperienza da consigliere comunale io mi sono resa conto appunto che comunque avere la possibilità di esercitare il controllo analogo per quanto sia uno strumento limitato all'interno di una società per azioni è comunque uno strumento che favorisce la partecipazione dei consigli comunali perché mentre appunto in una azienda, un gruppo come Irene in cui non c'è la possibilità di intervenire o comunque è solo marginale la possibilità di intervenire all'interno dell'assemblea dei soci, il controllo analogo permette invece al consiglio comunale di potersi esprimere all'interno dell'assemblea dei soci ad esempio come avviene raramente però come può avvenire come diciamo la normativa consente all'interno dell'assemblea dei soci SMAT. Quindi secondo me insomma i ruoli dei consigli comunali andrebbero ovviamente la direzione che noi volevamo prendere anche col percorso di rimunicipalizzazione di SMAT era proprio di far rientrare i consigli comunali quindi le assemblee elettive all'interno della gestione di un'azienda che fornisce un servizio pubblico essenziale. Però appunto a seconda delle aziende anche sul GTT ad esempio l'assemblea elettiva, il consiglio comunale di Torino ha molta meno capacità di intervento secondo me rispetto a un'azienda in house che quindi è soggetta al controllo analogo da parte del comune di Torino. Questa diciamo è la breve riflessione. Io ripeto non conosco approfonditamente le questioni di SP e sono contenta di essere qua e di poterle approfondire anche perché è un tema che mi interessa ed è un tema fondamentale nelle politiche cittadine secondo me la gestione dei servizi essenziali per i cittadini insomma dovrebbe essere il tema centrale che impegna tutti i consigli comunali. Questo era il mio contributo per la riflessione.